Ciao, benvenuti a questo video sulla luna piena in scorpione, 23-24 per noi se non sbaglio aprile 2024, in ogni caso siamo già nell'energia di questa lunazione, appena usciti da un'eclissi solare totale in ariete con la luna nuova che inizia e inaugura l'anno astrologico, luna piena in scorpione a 4 gradi 18 minuti abbiamo già potuto rilevare la dinamica di questo mese di aprile, un mese estremamente dinamico, ricco di eventi da un punto di vista cosmico, astrologico ma anche astronomico, abbiamo avuto il passaggio di una cometa il 7 di aprile che ovviamente anche essa ogni 70 anni transita visibilmente, visibile a occhio nudo nel nostro cielo, cometa Ponsbrook e quindi poi il giorno successivo naturalmente l'eclissi solare totale e poi abbiamo il 20-21 aprile la congiunzione potentissima di Giove Urano in Toro, quindi c'è stata anche un'enorme quantità di informazione intorno a questa eclissi solare totale in ariete soprattutto per quanto riguarda i nostri colleghi, amici, anime d'oltreoceano, soprattutto ecco centro-nord America che vedranno la prossima eclissi del 2033 e per quelle che sono diciamo le coordinate anche profetiche rispetto all'eclissi e alla carta natale degli Stati Uniti in particolare che hanno comunque quest'anno il ritorno del loro Plutone Natale e quindi anche molto clamore intorno a questa eclissi solare totale in ariete la cui energia continuerà nelle prossime settimane e imposterà la seconda metà dell'anno, diciamo, questa eclissi totale è l'inizio di un'esperienza molto potente il dito di Dio sul grilletto a innescare un nuovo ciclo evolutivo per l'umanità lasciamo Ansuz scoperta punto d'innesco quindi, come detto, l'ariete in sé è un punto di inizio, di inizione per la congiunzione anche che precede questa luna piena in scorpione di circa 72 ore possiamo dire, usando un numero mistico e congiunzione, come suggerito appunto, tra Giove e Urano in toro tra il 20 e il 21 aprile, spostandoci verso oriente e verso est sarà il 21 è il punto di inizio di una serie di eventi e siamo già entrati in questa energia perché questi due colossi, non solo a livello di massa ma a livello proprio di energia, di proiezioni, di transfert energetico sulla coscienza umana sono fortemente risonanti sono massicci e la loro risonanza è potente sul nostro sistema di coscienza unitaria anche come collettività l'eclissi solare totale e la congiunzione di Giove e Urano fondono insieme naturalmente temi di indipendenza, di libertà, di sovranità e di assunzione anche di rischi, di iniziativa intraprendenza, di innovazione ci viene chiesto di mantenere un assetto bilanciato, tra virgolette elegante non farci prendere dagli accessi emotivi o mantenere un controllo delle proprie emozioni e approcciare questa fase con un aplomb che viene definito poised cioè aggraziato, elegante perseguendo un ideale di bellezza che guida le nostre azioni le nostre scelte perché non siamo brutti o brutti in questo senso ma continuiamo a perseguire virtù e conoscenza e soprattutto del sé la conoscenza interiore che ci permette di mantenere un determinato aplomb o comunque un determinato equilibrio psico emotivo e l'energia iniziatoria, l'iniziazione dell'ariete quella diciamo anche concreta, verteggiante, fisica, ricca del toro conducono a noi l'idea di coltivare con amore per poter raccogliere, quindi per poter godere dei frutti come suggerisce Venere che governa il toro e che ha un ruolo rilevante anch'essa in questa fase e io sono un pioniere e vado anche se sono da solo e so godere della vita so godere dei piaceri della vita che non sono necessariamente legati a un senso di proprietà e di possesso ma che possono essere ritrovati dentro di noi anche nelle piccole cose nel riconoscimento grato delle quotidiane benedizioni anche se sembra retorico si raggiunge comunque una sorta di punto di rottura tra il passato e il futuro diciamo che questo presente dà a noi un senso di svolta o di rilascio dà un qualcosa, un ciclo che sembrava non finire mai dal quale non riuscivamo a uscire in cui ci sentivamo in qualche modo stagnanti o bloccati o imprigionati un loop che continuava a ripetersi soprattutto in questa seconda metà del mese di aprile però naturalmente questo richiede di mettere in discussione ogni aspetto della nostra vita e quindi naturalmente implica da un punto di vista collettivo di istituzioni e di governi anche di riconsiderare e quindi anche poi individualmente nel contesto più piccolo o familiare al di là del numero dei membri implica appunto riconsiderare anche il sistema economico socio-politico in cui viviamo e tutto quello a cui siamo stati educati a credere tutto quello che siamo stati educati a credere come vero come importante il sistema di credenza in cui siamo ora e quello in cui siamo cresciuti vengono osservati con maggiore più da vicino con maggiore attenzione per osservare con lucidità e operare una sorta di reset di purificazione per riconoscere se il nostro sistema dinamico di scelta è veramente nostro originalmente costituito sulla somma delle nostre esperienze lezioni e conclusioni tratte o se semplicemente stiamo ripetendo un tracciato delle impronte di chi abbiamo intorno impronte ancora diciamo non più ormai come dire cancellate dalle onde eppure ancora impresse nella pellicola della nostra memoria che ci dà l'illusione che siano presenti quando invece sono semplicemente un'impressione su pellicola come una foto e quindi pertengono al reame possiamo dire della memoria che abbiamo impronte del presente in questo caso persone che sono intorno a noi fuori di noi o impronte del passato e occorre chiedersi se magari credendoci liberi siamo invece ancora a rispondere inconsciamente a qualcosa che ci è stato magari inculcato da noi stessi o dalle esperienze stesse o da altri o dal sistema educativo e anche naturalmente col lavaggio cerebrale del sistema mediatico dell'uomo di sabbia che abbiamo intorno al quale la maggioranza fa riferimento nel come dire ricevere l'ingresso informazione e quindi potenziale anche disinformazione anche poi con la congiunzione di Marta e Nettuno e anche viene a chiedersi quello che ci è stato insegnato dalle strutture che contraddistinguono la società come la conosciamo attualmente a quale credenza è agganciato ancorato ancora o fissato il limite quello che possiamo non possiamo ottenere o realizzare o raggiungere si mettono in discussione le nostre abitudini è necessaria una purificazione un reset un cambiamento anche rituale o simbolico di queste abitudini per sganciare dei patterns neuronali e quindi utilizzare le capacità neuroplastiche del nostro cervello per impostare nuovi pensieri nuove dinamiche mentali nuovi percorsi e conseguentemente cambiare il tracciato dell'esperienza dell'intreccio l'intracciato possiamo dire e quindi ecco nostre abitudini nella nostra struttura quotidiana le nostre normali reazioni alle cose ma anche le nostre relazioni con il nodo sud in bilancia il modo in cui svolgiamo il nostro lavoro il modo in cui gestiamo le risorse appunto incluse le relazioni come risorse ed è molto probabile anche che riceveremo illuminazioni in merito riceveremo rivelazioni segnali sincronicità realizzazioni e comprensioni a riguardo questa runa ansuz ci allaccia alla comunicazione all'informazione alla bocca alla comprensione all'ispirazione appunto ai segnali alle sincronicità ma anche al coyote l'occhi e quindi al briccone che come dire attende di buggerarci o ci si presenta sul cammino per farlo per testarci naturalmente è funzionale alla nostra espansione alla nostra evoluzione ma sicuramente ci viene chiesto di vedere e di osservare con attenzione con l'occhio dell'intelligenza guidati dal nostro cuore quelli che sono i segnali le sincronicità che ci vengono date sul nostro sul nostro cammino questa runa con l'idea proprio della bocca ci riporta anche alla lettera ebraica P la forma della P che è associata a una kaf e una yod nel mezzo kaf che simboleggia il contenitore contenente delle parole kli detto da kli pot e yod che è il contenuto ritorniamo all'idea della yod la y anche o j di yeshua e del tetragramma e anche il numero 10 della rettificazione nell'alfabeto ebraico nella forma della P della bocca e quindi vi suggerisco di osservare la lettera ebraica P e anche eventualmente di meditarvi sopra al di là della comprensione cerebrale e si può scorgere un'allusione all'arca dell'alleanza in questa lettera e anche alle tavole della Torah che sono contenute nella tavola dell'alleanza e la yod naturalmente è il decalogo vale 10 come i comandamenti oppure si può vedere anche l'anima contenuta nel corpo e in questo caso la yod è circondata anche dalla bet piuttosto che dalla kaf perché è il seme della vita e bet è il corpo che lo accoglie la P naturalmente come comunicazione e anche profezia può rappresentare anche l'anima del messia che dimora nella parte più alta del giardino dell'eden nel nostro giardino dell'eden individuale interiore non in un luogo fuori di noi ma nel luogo dentro di noi in cui si trova questo giardino alla confluenza diciamo tra la triade superna e Tiferet in un luogo recipiente chiamato il nido dell'uccello il nido dell'aquila per noi in questo senso in attesa diciamo del momento propizio per rivelarsi e la rivelazione messianica interiore individuale o principio cristico della coscienza secondo l'astrologia esoterica è sicuramente all'attenzione in questa fase altra runa che viene portata all'attenzione è proprio Gebo Gebo quella delle relazioni ed è anche una runa che rappresenta un dono l'equilibrio lo scambio la partnership la generosità come detto c'è un cambiamento una relazione viene veicolata nel nostro campo nell'energia della luna piena questo è portato all'attenzione dalla runa Gebo e metteremo le rune da destra verso sinistra abbiamo quindi Kenaz con il simbolo della civetta in questo specifico quindi ancora più riferito all'idea di comprensione che deriva comunque anche da una saggezza acquisita ed una capacità di interazione con l'idea della saggezza Kenaz ci porta all'idea di una torcia e quindi illuminazione c'è anche l'illuminazione rispetto a un ambito relazionale che può essere in arrivo per qualcuno o una relazione illuminante per altri o una relazione che è pronta a entrare dopo che abbiamo eseguito un processo di pulizia anche magari dopo per alcuni che si trovano a ascoltare un ciclo relazionale che ripeteva se stesso in cui magari i risultati erano più o meno uguali e quindi come dire quel famoso detto cambiavano i musicisti la musica sostanzialmente non cambiava e quindi siamo a un'evoluzione naturalmente Kenaz ci rappresenta anche un passaggio iniziatico la visione la creatività l'ispirazione il miglioramento la vitalità e anche l'apertura è collegata alla dea Nertus in particolare questa questa runa e ecco che queste relazioni vengono a essere anch'esse ristrutturate finalmente puliamo dal nostro campo qualcosa che continuava a ripetersi entriamo in una nuova fase grazie all'illuminazione ricevuta le lezioni apprese a quello che abbiamo imparato all'aver compreso una saggezza una conoscenza che è anche una conoscenza antica quella che viene portata all'attenzione e che riguarda anche i rapporti tra il rapporto relazionale tra la parola e la luce e quindi tra la comunicazione e il miglioramento dell'esperienza tra la comunicazione e la creazione con Kennatz che appunto letteralmente significa torcia e quindi la torcia la lampada non è sotto il tavolo ma è sul moggio illumina la stanza e fa luce ai presenti e questa lampada illumina la nostra comunicazione c'è una sorta di rapporto incrociato che viene fatto notare tra la comunicazione e la nostra chiarezza mentale il nostro livello di consapevolezza acquisita e la relazione come frutto come specchio anche di questi rapporti naturalmente da un ritornando a una lettura da sinistra verso destra la nostra visione creatività ispirazione iniziazione a una fase nuova della nostra vita anche relazionale è molto legata anche all'utilizzo della nostra comunicazione sappiamo che la comunicazione non è solo una comunicazione mentale e scusatemi appunto una comunicazione verbale esterna ma è soprattutto una comunicazione mentale quella la comunicazione parte nasce dalla forma in cui comunichiamo in noi stessi con noi stessi quando nessuno esterno ci ascolta e abbiamo solo ad ascoltarci l'orecchio divino che risiede dentro di noi e quindi anche quel principio messianico che ci ascolta dentro di noi e quindi ecco con qualche lampo di genio che illumina un'area buia ce la fa vedere per quello che realmente è come se fosse per la prima volta nella sua vera natura ci viene imposto quasi da un punto di vista energetico di rilasciare le vecchie dinamiche i vecchi meccanismi di rilasciare il vecchio e nella seconda metà di aprile soprattutto e cambiare la nostra vecchia pelle per fare un salto quantico l'amore romantico sicuramente in arrivo per qualcuno date le sincronicità le specificità e la ripetizione anche negli interattivi di questo elemento della relazione legata anche all'amore romantico sicuramente per qualcuno questo può manifestarsi in forma letterale ma è un tipo di amore quello romantico che implica un'unione integrata e corretta e sinergica e reciproca e reciproca scusate ce la posso fare c'è mercurio retrogrado fino al 25 e anche mutua mutuo supporto che l'amore romantico in sé rappresenta come appunto unione di polarità ed è il nostro viaggio a sentirci completi attraverso le esperienze e a riflettere proiettare grazie alla nostra comunicazione illuminata e quindi alla comprensione del rapporto che c'è tra i nostri pensieri e le nostre parole e diciamo è come delta S su delta T che fanno la velocità è come se i nostri pensieri e le nostre parole fossero in un rapporto uniforme per cui le relazioni ne derivano di conseguenza ne sono la risultante e sono una risultante dinamica a livello di movimento nel piano delle coordinate nel nostro campo quantico il 3 viene portato all'attenzione da questo 48 insieme al 37 insieme a un altro 3 e quindi abbiamo un 3-1-3 portati all'attenzione per chi fosse interessato a questo palindromo data la curiosità insomma e la concomitanza direi subito di dare qualche riferimento gematico sul 3-1-3 come numero e secondo diciamo il testo di Crivelli in merito il 3-1-3 è il cinquantunesimo soffio divino cinquantunesimo dei nomi divini che è E-Het-Shin la radice è l'angelo A-Sha angelo appunto terzo raggio angelico nel coro venusiano dei principati e in cui amministra le energie di Giove propriamente ed ha come elemento il fuoco domicilio zodiacale tra i 10 e i 15 gradi del segno del sagittario naturalmente il governo dei principati è quello dell'arcangelo Aniel angelo della bellezza mentre il segno del sagittario cade sotto Hesediel della sefira Hesed e la decade che qui viene portata all'attenzione è sotto il governo dell'arcangelo Raffaele il nome Asha significa Dio occulto nascosto e dispensa la pietra filosofale la panacea la capacità di trasformare il piombo in oro e quindi anche invita la collettività le persone a portare nel mondo come fossero i propri e quindi credendo esprimendo veramente i valori che vengono infusi dal divino e che sono la pace l'armonia lo spirito conviviale l'unione benevola fra tutti gli esseri la gentilezza il garbo la fratellanza la premura la cura e quindi come dire alimenta il desiderio di compiere gesti edificanti e nobili e aspirazione a comportarsi in maniera esemplare ma non per gonfiare il proprio ego e cercare ammirazione ma per un servizio che viene identificato come missione sicuramente questa energia dell'angelo ascia è portata nel campo collettivo anche dalle energie astrologiche e astronomiche di questa lunazione la meditazione tra l'altro associata al nome ascia si chiama nessuna colpa ora appunto come dire questa meditazione ci riallaccia anche a questa carta secondo la cabala non esistono dei fatti che non abbiano un senso logico che non siano semiotici e dunque nemmeno esistono vincitori o vinti o vittime per i capricci di un fatto che non ha un senso per noi diciamo questa visione di insieme che ci viene richiesta anche qualora appunto l'esistenza del male per noi risulti incomprensibile viene a chiederci di integrare bene male luce e ombra e appunto le polarità e che quello che noi identifichiamo come male o come loki o come briccone o come coyote a volte è semplicemente funzionale a una rettifica del cammino è un'opportunità che ci viene data per volgerci maggiormente a quello che noi riteniamo luce e bene per esempio e quindi occorre diciamo lavorare su quello che può essere un meccanismo ancora da purificare legato alla colpa o a un senso di vittimismo o a un senso di vincitori e vinti e ancora rimasti ingabbiati in questo tipo di competitività tra gli archetipi tra gli estremi e viene a essere suggerita la meditazione di questo angelo che dice chiedo alla luce per l'energia di Asha di scaricare tutti i miei difetti la forza chiamata pentimento in questo caso e quindi un vero dispiacersi dei nostri errori emenda automaticamente i nostri pesi spirituali e indebolisce ogni lato oscuro nella nostra natura ora il 313 oltre a questo significato cioè all'angelo cinquantunesimo significa anche tra i significati che ci vengono riportati naturalmente dal crivelli e che non sono tutti sono solo parziali l'essere silenziosi e quindi entrare in una fase di silenzio e dall'altra parte è aram il male il cattivo lavorare su questo nostro sentirci in qualche modo ancora in colpa ancora non buoni o ancora in colpa per un qualcosa questo ci viene a chiedere la luna piena in scorpione cioè di rilasciare le negatività che sono sterili inutili che magari come dire rimaste lì per tanto tempo con le ragnatele la polvere sopra non abbiamo ancora sradicato ce ne siamo dimenticate ci siamo abituati a convivere un po' come i granulomi dentali che sono per esempio asintomatici e ti accorgi di averli solo quando si infiammano per esempio o come altri tipi di male appunto quello che non viene visto e rilevato sostanzialmente diventa cattivo è come lasciare un po' di cibo nascosto in un cassetto e accorgersi dalla puzza qualche tempo dopo che qualcosa è andato a male appunto quindi quello che stagna tendenzialmente tende ad ammalarsi anche perché non c'è dinamica e così come le acque ci dimostrano in questo senso e lo stesso vale per noi per le emozioni anche quindi questo salto quantico nella nostra evoluzione sarà indotto magneticamente nei campi individuali e la compassione portata in evidenza come elemento verso anche appunto se stessi perché siamo noi il nostro campo diciamo la palestra in cui ci esercitiamo prima di andare nel mondo occorrerebbe che ognuno facesse i suoi esercizi nella palestra interiore prima di come dire approcciare degli attrezzi estranei e eventualmente ricevere o fare danni in questo senso questo è un po' come dire radicale questo pensiero che sto esprimendo ma è una cosa in cui io credo profondamente e come dire appunto per ciascuno passerà questo treno ad altissima frequenza che ci inviterà a salire a bordo per iniziare un viaggio che è associato diciamo al viaggio tantrico che ci aiuta a sbloccare la conoscenza nascosta ancora e quindi di oscuro e la saggezza che noi intrinsecamente possediamo rispetto a come appunto farci guidare da noi stessi rispetto scusatemi alle onde della mia barca a come raggiungere uno stato di pienezza di integrità e uno stato di completezza attraverso anche le porte dei nostri sensi e quindi il nostro rapporto sensoriale con quello che è fisico con le nostre esperienze sensuali con noi stessi o con un altro quindi lavorare sui nostri cinque sensi in questo senso appunto in questo sesto senso ci permette di elevarci e di prendere questo famoso treno di cui si sta parlando e questa evoluzione quello che è anche bene far notare data la presenza di urano nel campo non è e soprattutto così forte in toro da un punto di vista energetico non è sicuramente un'evoluzione graduale o lineare l'energia procede a picchi d'onda e quindi a scatti anche una linea a volte scusate sono a volte linee continue a volte tratteggiate a volte curve un po' come andare sulle montagne russe in questo senso ma non facciamoci ingannare dagli alti ai bassi perché delle onde ecco rimaniamo ben saldi al timone della nostra barca e non c'è diciamo una fluidità evolutiva ma si procede appunto per salti di coscienza che sono salti per loro natura anche repentini illuminanti che hanno il potenziale anche di farci perdere l'equilibrio o demoralizzarci in alcuni altri casi e non è un'evoluzione per gradi in questo senso e sono salti quantici nella nostra microstruttura nella microstruttura della materia sono salti quantici nelle infrastrutture che ci permettono il viaggio e c'è una rivoluzione con i materiali dell'acquario portata all'attenzione che è molto uraniana con la superficie della terra che si scuote e l'attività sismica naturalmente è anche legata ad urano in aumento oltre che quella volcanica e quindi c'è un cambiamento sorprendente che può arrivare dalla terra sotto i nostri piedi e qui andiamo a riallacciarci non solo anche al chakra detto chakra zero se manteniamo diciamo l'ordine dei chakra tradizionale della cultura hindù ma se vogliamo usare quello degli antroposofi sarebbe l'ottavo ma in ogni caso noi lo chiamiamo chakra zero che è quello un poco sotto i nostri piedi conficcato nella terra ma è dalla terra che viene la rivoluzione questo a livello collettivo anche quindi è la nostra terra che sta rivoluzionandosi per creare una nuova terra e quindi ci viene chiesto di rispondere sulla runa kenaz con apertura aprendoci a nuove idee e anche a innovazioni geniali che svoltano il futuro dell'umanità che sono eccezionali nella loro portata e quindi anche ci viene detto come una vecchia via crolla sfuma e si dissolve alle nostre spalle una e quindi anche una vecchia abitudine un vecchio comportamento un qualcosa che eravamo abituati a mettere in atto in maniera automatica la nostra stabilità è richiesta e quindi nel momento in cui andiamo ad affrontare questo tipo di processo rivoluzionario ci è richiesto equilibrio e stabilità ed è come se la nostra il nostro equilibrio e stabilità venisse a sorreggere quelli che possono essere i momenti in cui ci sentiamo imprigionati in un meccanismo ed è richiesta questa nostra stabilità a livello individuale personale come una responsabilità per poter cambiare il mondo anche su larga scala naturalmente riallacciandoci al famoso detto perfettamente logico il cambiamento che vuoi vedere nel mondo anche perché il mondo è fatto da singoli individui e quindi ecco rilasciare il vecchio imposto in qualche modo con forza e tutti noi in larga misura stiamo seguendo un percorso accelerato comunque nella nostra evoluzione un viaggio detto tanto con questa sincronicità alcuni magari più di altri qui si parla appunto di una riconciliazione polare guidata dalla compassione quello che concilia diciamo la nostra apertura a questo viaggio e il segno e le sincronicità che ci vengono date anche rispetto al concetto di integrazione della polarità affondano il loro risultato sull'idea della compassione e appunto tutti noi seguiamo un percorso evolutivo alcuni prendono corsie veloci con frequenze più alte altri lavorano a più basse frequenze ma tutti si vanno ad imbarcare sullo stesso veicolo siamo tutti sulla stessa barca o meglio anche sullo stesso velivolo parlando di urano che governa l'aviazione e andiamo tutti verso una coscienza unitaria e ci viene chiesto di essere ben determinati in questo di non temere di parlare la nostra verità di essere sicuri con le emozioni del leone di quello che il nostro cuore vuole trasmettere come anche messaggio a livello umano ma non semplicemente con le parole ma più che altro con i fatti con le azioni e sentirci sicuri di noi lavorare sulle nostre insicurezze c'è una rivoluzione in atto per gli individui rispetto anche al loro senso di sicurezza e insicurezza e questo rapporto con la sicurezza è dato molto dall'energia del toro e stiamo appunto andando verso una sola coscienza come umanità e questo è un periodo incredibilmente positivo compassione al quadrato aprire la porta del nostro cuore aprire noi stessi agli altri e ai loro sentimenti che può condurci a sperimentare compassione ma allo stesso tempo può farci sentire noi stessi vulnerabili qui abbiamo lo spirito dei pesci in cui appunto la congiunzione di saturno marte e nettuno si fa sentire e c'è marte che è tra virgolette il guerriero nei pesci è il guerriero spirituale il guerriero luminoso che adotta come dire un tipo di evoluzione organizza essendo un'evoluzione caotica entropica possiamo dire capace di organizzare il suo processo evolutivo lasciando che la gentilezza l'eleganza la grazia impregni le nostre azioni con passione e proposito per rendere il mondo un mondo migliore ma non per presunzione ma per responsabilità e questo è un periodo incredibilmente positivo da questo punto di vista e anche produttivo anche se appunto sembra piuttosto l'energia dirompente irregolare alti molto alti e molto bassi molto sismica in moltissimi sensi terremoti improvvisi anche figurativamente parlando naturalmente con l'idea di saturno marte e nettuno nei pesci c'è anche l'idea delle alluvioni emotive dell'essere travolti dalle onde degli delle essere sommersi emotivamente ma nonostante tutto appunto questo è parte del processo evolutivo e quindi si chiede di gestire noi stessi e gli altri con compassione che è interiore ed esteriore perché diventa mediatore tra il cielo e la terra tra lo spirito e la materia e abbiamo una rivoluzione rispetto alla terra in questo senso così che l'amore incondizionale in questo senso lo andiamo a riallacciare a un'unione polare stiamo lavorando in maniera più tecnica e quindi non c'è condizionalità tra le due polarità ma reciproca dignificazione così che l'amore incondizionale può fluire dalla sorgente attraverso il nostro cuore che si apre e fluire dal cuore al mondo quindi ci viene chiesto con lo spirito del toro proprio di rilassarci di passare del tempo in meditazione in riflessione distesi su un prato in connessione naturalmente con la natura e questa congiunzione urano e giove che adesso metteremo diciamo rilassati perché è un momento rivoluzionario questo quindi trova i giusti tempi di riposo come si diceva anche nell'energia degli interattivi in ogni caso avviene questa congiunzione ogni 13-14 anni quindi è importante perché è rinforzata oltre che diciamo va a impostare un ciclo piuttosto lungo è anche rinforzata da molti altri fattori sia astrologici che cosmologici quindi è molto molto importante gestire la nostra energia in maniera cosciente in questa fase con una volontarietà di orientamento e di direzione delle nostre dinamiche mentali ed emotive e quindi sebbene la congiunzione avviene appunto il 20 di aprile negli Stati Uniti in Europa sarà andando verso est verso il 21 e dura circa un'ora noi siamo già immersi in questa energia Mercurio come si era detto già in un altro video sull'eclissi andrà a collaborare con Chirone e farà tre congiunzioni quindi ancora l'acquario lo spirito dell'acquario collaborazione un alveare ronzante produce miele e un gruppo può produrre risultati che trascendono quello che uno può fare da solo l'unione fa la forza attraverso il mutuo sforzo risolvere i problemi attraverso la condivisione di idee e definire degli ideali collettivi permette di produrre miele dolci risultati nettare di far scorrere questo nettare dal cervello di Dio alla sacra coppa nel cuore della terra in questo in questo senso e appunto Mercurio che al momento è retrogrado fino al 25 del mese dopo inizierà a ritornare diretto e si ricongiunge per la terza volta a Chirone dopo essersi congiunto in maggio dopo essersi in marzo dopo essersi congiunto al momento dell'eclissi si ricongiunge a Chirone il 6 di maggio ed è questo un intero processo in cui diventiamo mentalmente più consapevoli di qualsiasi ferita e tra virgolette trauma qualsiasi male o malattia che potrebbe essere individuale ma che anche come dire rispecchia l'intera ferita collettiva con il nodo nord in ariete e con Chirone in ariete Mercurio in ariete Venere e che Chirone è un pianeta generazionale detto e quindi naturalmente implica influenza lunghi periodi generazioni possiamo dire e quindi è questa ferita collettiva anche che abbiamo vissuto come umanità e di cui non siamo stati pienamente consapevoli fino ad ora vediamo che forse la vittimizzazione il vittimismo che è uno dei più grossi mali dell'umanità diventa possibile solo perché permaniamo nell'incoscienza individualmente o perché permaniamo soprattutto nell'ignoranza del nostro grande potere come individuo cosciente e come coscienza unitaria perché l'uomo è essere umano ma l'umano è un attributo una qualità dell'essere e la ferita più grande che le potenze terrene hanno inflitto all'uomo è stato proprio gettarlo in uno stato di oblio del proprio essere del proprio vero essere del proprio valore del proprio potere della propria esistenza di essere divino incarnato di essere il messia e la più grande ferita appunto questa che gli ha tolto la vista o che gli ha tolto l'udito o che gli ha tolto uno dei sensi che l'ha paralizzato in qualche forma appunto ritorniamo all'idea di usare le porte dei sensi o gli ha tolto comunque quel buon senso quel divino senso la sua legittima discendenza di figlio del dio creatore oltre che di figlio di questa terra come si dicevano chi sono mio padre mia madre i miei fratelli in ariete il nodo nord è io sono e fa osservare le aree o le modalità e qui diciamo io sono colui che sono nel senso che andiamo a sganciarci anche da un'idea di ego perché è vero che per alzare la prospettiva occorre diciamo per compiere una decisione informata nella maniera diciamo relativamente nella relatività più corretta possibile è opportuno elevare la prospettiva ma occorre anche precisare che l'elevazione della prospettiva non implica un senso di superiorità rispetto agli altri l'elevazione della prospettiva è semplicemente un fatto funzionale alla visione e non ha nessuna connotazione qualitativa da questo punto di vista e quindi potremmo anche andare in cima a un palazzo e non vedere niente in questo senso ma si osservano le aree e le modalità in cui paralizziamo il nostro senso di autorità interiore il nostro senso di sovranità dove è stato attenuato schiacciato nella coscienza vittimistica schiacciato il suo malgrado perché poi comunque come dire la paura diventa il più grande schiavizzatore o burattinaio o diciamo il nostro secondino e io sono è la sovranità della dell'identità non siamo più schiacciati in una sorta di coscienza vittimistica ma ci identifichiamo col nostro essere e col nostro vero sé e poi appunto la congiunzione tra mercurio ed eris voglio vedere se riesco a rimettere un attimo le carte come suggerito inizialmente con la compassione al quadrato e queste due carte dell'acquario tra collaborazione rivoluzione essere collaborativi in questo processo rivoluzionario rievoluzione dell'umanità e della coscienza e la nostra individualità la nostra essenza unica viene a rinascere quindi ecco mercurio e eris congiunti rafforzano questo risveglio questa congiunzione col vero sé ed eris in realtà è anche il potere delle qualità il pomo della discordia funziona diciamo solo fra i narcisisti e la vanità i vanitosi i vanesi e le cose vane e la vanità ma in realtà il principio è corretto la non esclusione e eris è sorella di marte nel mito e quindi la sorella va più piccola e quindi come dire a questa connotazione bellicosa anche e mentre dall'altra parte il guaritore ferito Chirone è legato all'essere anche un anticonformista non solo perché è un centauro ma perché Chirone orbita tra Saturno e Urano e quindi essendo un pianeta che supera l'orbita di Saturno si ritiene più si ritiene superare simbolicamente quelle che sono le connotazioni Saturnine e quindi supera lo status quo supera quello che è convenzionale tutto quello che è tradizionale istituzionale centralizzato temporale conservatore il modo in cui abbiamo sempre fatto le cose sarà rivoluzionato e molto di questa rivoluzione appunto sarà fatta in collaborazione e volontariamente è come un atto volontario faremo le cose in un modo nuovo ce lo insegneremo a noi stessi collaborando col Dio che è in noi col figlio di Dio che siamo col messia che siamo e ci disciplineremo per farlo anche ritualmente scegliamo quello che non scegliamo di solito usciamo appunto detto dalla zona di comfort cambiamo le nostre abitudini e questo ci darà forza un asso di denari ci darà fortuna forza nuove risorse di denaro tempo e supporto un cambiamento o una promozione da un punto di vista lavorativo o esistenziale o una promozione della nostra coscienza un'elevazione questa è un'opportunità concreta che arriva con l'asso di denari con l'asso di Ariel che Ariel in questo caso è Uriel l'arcangelo in ogni caso appunto legato comunque a raccolto legato alla produttività concreta del pianeta la ricchezza della natura anche e al grano al grano in tutti i suoi sensi anche quello metaforico e quindi riceveremo forza potere coraggio supporto più tempo quindi con questo aumento dell'energia aumenta anche il tempo conseguentemente e usciamo appunto da dei meccanismi obsoleti e stanti scegliamo una strada anche magari simbolicamente quando usciamo andiamo al lavoro una strada diversa da quella che percorriamo normalmente nella routine delle attività quotidiane cambiamo la routine delle attività quotidiane cambiamo la routine degli spostamenti giornalieri cambiamo qualcosa a livello proprio simbolico sentiremo la nostra individualità la nostra essenza unica ristorarsi ricostituirsi ripristinarsi la nostra autenticità la nostra sicurezza e senso del valore personale saranno rafforzati potenziati rinvigoriti e ovviamente tutti questi temi sono rafforzati perché Chirone è congiunto ad Eris che è la dea guerriera del caos e della discordia come detto ma crea caos come in natura l'entropia per fare ordine per arrivare a una negentropia e quindi per raggiungere una verità una struttura una coagulazione di ciò che viene sciolto solto soluto e risolto e per raggiungere una giustizia un'inclusione nella società il re di coppe che è caldo generoso onorevole raffinato ci viene a dire sì va bene che credi è giusto sei salvo sei protetto è corretto quello che stai dicendo è corretto quello in cui credi abbiamo i delfini dietro che saltano dietro il re di coppe raffaele tra l'altro citato per la decade dell'angelo 51 l'abilità di compiere molte cose allo stesso tempo nettuno naturalmente è portato all'attenzione da questo re di raffaele e segui le tue passioni creative nettuno e anche metatron sono portati all'attenzione naturalmente il coro dei serafini anche in questo caso legato a nettuno e come dire tutti hanno bisogno di essere ascoltati non c'è una verità più vera o più falsa di un'altra perché è tutto relativo in questa nostra realtà naturalmente la verità e la la menzogna sono un argomento su cui si potrebbe aprire come dire un libro si potrebbe scrivere il libro appunto ma vi faccio presente solo i paradossi in questo senso il paradosso del cretese per esempio e anche il libro di Heinz von Forster che lo utilizza che è la verità e l'invenzione di un bugiardo e così per rimanere un attimo e non deviare troppo dal tracciato in questo senso e quindi Urano ha dei temi simili a questa unione di Chirone Eris e Mercurio cioè è ribelle è individualista è rivoluzionario tende a portare come dire a mandare avanti gli ultimi è inventore genio è risvegliato e risvegliatore è innovatore e pioniere da un'energia di rompente quanto Eris e quanto Marte anche e Chirone Eris e Urano sono anche evidenziati condividendo appunto queste tematiche affini e il nodo sud in bilancia come detto rivoluziona le relazioni anche da un punto di vista romantico c'è una rivoluzione che riguarda una collaborazione e una relazione che entra in campo per qualcuno anche in senso specifico fisico letterale ma ecco impariamo a darci più valore come vuole il segno del toro a valorizzarci in ogni senso che non vuol dire appunto pavoneggiarsi o gonfiarsi come dei palloni gonfiati pieni di titoli e vuoti dei gusci vuoti e che magari si spacciano per persone estremamente coscienti perché hanno tanti tanti titoli che li sostengono ma poi quando andiamo a stringere vediamo la loro totale incoscienza della quale sono totalmente appunto ignari e quindi ecco la libertà la rivoluzione un bisogno di sentirsi vivi il bisogno di rompere degli schemi stanti rompere la routine fare qualcosa di diverso ci mettiamo in buona luce diceva il 64esimo soffio qualche giorno fa e dove potremmo anche essere stati troppo compiacenti troppo accomodanti troppo buoni nelle nostre relazioni individuali o collettive questo è il momento per un grande cambiamento per una grande rivoluzione di farsi anche rispettare essere coscienti del proprio valore non svalutarsi non svendersi non c'è bisogno di mettersi in saldo lo straordinario stellium dei pianeti in ariete che è attuale e quindi anche venere congiunta a Chirone ribadisce e rafforza il messaggio che guariremo con l'amore con nuovi inizi che portano e ha una nuova vita l'arcangelo Jeremiel con la carta del giudizio trovare il proprio proposito un forgiving and compassionate review of the past una revisione del passato che sia volta che sia impostata sul perdono e sulla compassione del sé arriva a dire quanto si diceva inizialmente perché è la base per questi nuovi inizi e la compassione su compassione e compassione viene elevata al cubo in questo senso e quindi ecco una compassione elevata al cubo e guariremo con l'amore entreremo in questi nuovi inizi sia individualmente che collettivamente con il 6 di Raffaele abbracciamo il nostro bambino interiore avremo nuovi amici nuove collaborazioni delle relazioni che vanno a ricostituirsi a riconciliarsi a prescindere che siano esterne a partire da noi stessi e quindi anche dal nostro bambino interiore c'era in un film mi ha fatto rire della battuta ho due parole per il tuo bambino interiore grow up cioè cresci in italiano ma in ogni caso lo abbracciamo questo bambino bambini anche e la nostra infanzia ha portato all'attenzione per qualcuno che si trova qui all'ascolto e Giove e Urano appunto esaltano espansione di autonomia di libertà e questo straordinario senso di liberazione nuovi inizi rivoluzionari e arrivano nuovi inizi a alimentare questo bisogno questo desiderio di sentirsi vivi a rompere essi stessi gli schemi istantivi per chi ha fatto bene il lavoro tra virgolette di scelte precedenti e quindi ha costruito di presente in presente un ipotetico futuro sicuramente quelle che sono le liberazioni verranno automaticamente come discendenza del processo come diciamo una causalità discendente domino di domino corretto si era fatto rispetto al domino chi è il tuo domino il tuo padrone rompere appunto i patterns i patterns sono strutture qui siamo a un fante di bastoni colpaggio di Gabriele che è energetico coraggioso ottimista giocoso e viene sulla carta dei bambini segui le tue passioni accendi la tua torcia segui la tua luce interiore sei pronto per ogni sfida le opportunità per eccitamento e avventura sono a portata di mano e nuove strutture a sostituire quelle vecchie dicevamo appunto lo scorpione è un indagatore la luna in scorpione è una luna investigativa che investiga nelle profondità nell'ombra ma soprattutto che è capace come ogni bravo detective non solo a detectare e quindi a riconoscere una frequenza da un'altra a riconoscere quello che è opportuno venga riconosciuto che può variare per ciascuno ma soprattutto è osservatore degli indizi quindi sa riconoscere gli indizi sa interpretare decodificare i segni e i segnali ha una conoscenza del campo che è appunto semiotica e viene costruita sulla base di associativo mentale delle sue esperienze quindi anche come la frequenza di ripetitività di alcuni segni nel nostro campo perché detto tra noi è anche piuttosto inutile andare a vedere in google cosa significa il 555 cosa significa l'111 cosa significa per Doren Virtu cosa significa per la geometria o cosa significa per la numerologia o cosa significa per la ritmosofia perché come dire la conoscenza è una così come la coscienza e la scienza di questa conoscenza e di questa coscienza è nel saper rapportare appunto di fare un rapporto armonico tra la nostra esperienza e quelli che sono le messaggistiche di campo che ci vengono date e quindi da questo ricavare un risultato che può essere assolutamente personale magari ci possono essere delle connotazioni generiche valide più o meno a livello collettivo ma è sicuramente un fare di tutta l'erba un fascio rispetto al quale io sono molto come dire qui mi permetto di aprire una parentesi sul mio modo di lavorare molto specifico non ritengo che ci sia una medicina che va bene per tutti ritengo che ogni medicina come un sarto taglia un vestito fatto su misura su una persona ogni medicina ogni segno è medicina e ogni medicina è tagliata su misura per quella persona che la riceve dalla saggezza superiore e secondo la capacità logica di riconoscimento del significato al di là del significante e quindi trascendenza anche dei contenuti delle forme delle strutture per arrivare a un seme logico e significativo che possa fruttare a noi un nuovo fiore nel nostro campo di energia quindi questa congiunzione Giove-Urano intrigono tra l'altro con la vecchia congiunzione che ci fu il 12 gennaio 2020 quando Saturno e Plutone si congiunsero e questa congiunzione in Capricorno diciamo che limitò la nostra libertà e quando Saturno all'epoca si spostò il 22 marzo in acquario segno della libertà il giorno dopo iniziò il lockdown quasi in tutto il mondo quindi lo Scorpione ci propone una nuova indagine di campo in un'energia che è totalmente diversa da quella limitativa e costrittiva precedente ed è quindi il superamento anche di questa vecchia congiunzione di limitazione controllo contrazione finalmente andiamo ad espandere ad espirare anche a fare un sospiro di sollievo per alcuni Giove-Urano superano questi limiti in questa nuova congiunzione in toro e la contrazione viene superata cioè finalmente quella è l'ultima contrazione prima di un parto e c'è un'ondata di parto collettivo lo faremo diversamente lo facciamo un parto in acqua in questo senso emotivo emozionale ed il controllo del campo magnetico anche perché i campi elettrici come dire sono ortogonali i campi magnetici e un campo elettrico induce un campo magnetico però allo stesso tempo un campo magnetico può indurre un campo elettrico e quindi ci viene chiesto di tenere comunque d'occhio le nostre emozioni vediamo anche appunto rispetto a gestire le nostre vite da dentro verso fuori e scegliere da dentro la nostra realtà impostare la nostra programmazione non dobbiamo aver studiato il linguaggio C o C++ per poter impostare la nostra programmazione grazie alle nostre doti del nostro cervello cuore e del nostro asse neurocardiologico quindi vogliamo essere pionieri autonomi indipendenti nella nostra vita per quanto più possibile in quanto anche parlare di indipendenza in un contesto in cui c'è un'interconnessione e ogni cosa è l'una dipendente dall'altra sostanzialmente può apparire paradossale ma è una sorta di riprendere le eredini del proprio strumento e in ogni caso essere sovrani in qualche forma liberi di fare diversamente e vediamo anche quello che sta succedendo anche in merito all'agricoltura e questo senza dubbio è legato anche al quadrato di Mercurio e Cerere Demetra che è l'asteroide più grande Cerere che è madre di Proserpina Persefone che risiede Persefone in questo caso per sei mesi con il consorte Plutone Ade nell'oltretomba e ci riallaccia naturalmente a Venere alla sua energia congiunta come detto a Chirone e al ciclo di Venere che è sei mesi stella del mattino e sei mesi stella della sera e Cerere la madre di Venere è la dei cereali dei raccolti la madre di Persefone scusatemi e chiaramente l'oscuramento dell'amore incondizionale l'oscuramento dei valori venusiani più alti e che è anche l'abbondanza della terra delle risorse i piaceri della vita e quindi quelli che sono diciamo anche delle connotazioni specifiche del verbo ausiliare avere nel segno del toro quando si oscura Demetra ovvero quando non ritrova più la figlia va dainescandescenze e qui uso una parola non a caso escandescenza ma la sua ira e come dire il suo panico di madre la porta a distruggere i raccolti la porta a inaridire le terre quindi va tenuta in luce questa venere in questo ciclo e in questa lunazione e quindi mercurio quadrato a cerere ci riconduce naturalmente anche all'idea della produzione alimentare del raccolto dei cereali cereali in particolare ci riallacciano all'idea del corne del cuore anche e del grano oltre detto anche piuttosto molte volte adesso chi è nuovo sul canale magari non l'avrà sentito prima ma in ogni caso si è parlato più volte della radice kr o krn sanscrita che dà vita le parole corno cernunno horn corn come mais popcorn e anche naturalmente corcordis il nostro cuore ma anche cron e cronos e la corona e anche cristo diciamo rilasciando la consonante delle scure acque da parte ma in ogni caso si c'è la necessità di sistemi più giusti con tirone eris in questo quadro di mercurio c'è re venere e ci viene indicata appunto con tirone eris nel quadro della delle coltivazioni della coltivazione dell'agricoltura anche come metafora secolare dei nostri sistemi di coscienza che è il nostro campo la parabola del seminatore quella terra che deve essere dissodata e poi arata per poter seminare poi coltivata irrigata giustamente con il giusto apporto di luce solare eccetera viene a essere esposta alla ferita alimentare mondiale la ferita del sistema di produzione alimentare mondiale e la necessità di sistemi più giusti la ruota gira in questo senso i nuovi inizi nuovi inizi vengono ripetuti nuovi inizi nuovi inizi fine dei rallentamenti c'è un'accelerata movimento accelerato in avanti un cambio di direzione che offre felicità che ci porta a rivoluzionare la nostra vita a una collaborazione a una nuova relazione è un inizio appassionato e focoso di eccitamento e avventura è un amore cosciente la riflessione di un amante di una polarità a noi complementare conscia quanto noi equa in questo senso ed è Ceres praticamente quadrata al punto medio tra mercurio e chirone quindi può causare sa stessa tra virgolette potenziali danni drammi alla produzione alimentare la raccolta e cereali quindi questo è esattamente uno dei grandi messaggi qui abbiamo re e regina di Raffaele ancora la coppia e quindi la coppia viene portata all'attenzione la coppia dello stesso seme di coppe in questo caso coppia di coppe e con l'arcangelo Raffaele segui il tuo cuore un amore che è di casa che è familiare che è di casa e famiglia informazione psichica di natura spirituale che ci arriva in forma di scarico che è credibile e vale la pena credere e che è veritiera ed è la gentilezza la comprensione il dare e la sua capacità medianica psichica della regina di Raffaele psychic psychic in inglese è proprio le nostre capacità extra potremmo dire da noi definite extrasensoriali ma che sono sostanzialmente i nostri sensi accesi e non extrasensoriali ma parte del pacchetto in dotazione ad ogni essere umano e quindi come dire non c'è un'eccezionalità in questo essere noi dei medium ciascuno di noi essere medium in una società in una comunità l'uno per l'altro e per noi stessi ed è Urano è come dire ancora una volta questo è uno di questi messaggi di Giove Urano perché Urano è il piano per la rivoluzione il segno del toro ha a che fare col cibo con l'agricoltura con la coltivazione dei prodotti alimentari e la come dire i sistemi di produzione Urano è l'innovatore tecnologico c'è da dire che Demetra è a Cerere anche in Trigono molto positivo con Giove Urano e questo appunto riguarda prendiamole queste carte prima che rientrino nel mazzo e ancora una volta come dire riguarda i nuovi metodi di coltivazione rivoluzione anche in questo senso e comunque prendiamo il discorso dell'agricoltura in senso anche metaforico quando ne parliamo mi raccomando rispetto a questo aspetto perché non c'è agricoltura esterna senza un'agricoltura interiore e come dire è appunto una giustizia anche nell'impiego delle risorse agricole naturali legate alla produzione del cibo che viene portata in evidenza con Eris e Chirone quindi una giusta equa distribuzione delle risorse agricole naturali un giusto sfruttamento della terra e non exploitation o comunque l'abuso lo sfruttamento senza limiti e la violazione in questo senso stupro di gruppo del pianeta forte immagine ma la voglio lasciare e quindi giustizia il lato uraniano appunto vuole rendere le cose più efficienti e nel 3D tra gli diciamo a livelli di coscienza diversi potrebbe essere questo una maggiore industrializzazione quindi urano potrebbe essere colto in un lato come dire industrializzatore in questo senso che vuole massimizzare la produzione per il profitto ci viene chiesto appunto di differenziare l'innovazione in questo nostro processo agricole perché si andrà in due direzioni diverse da un lato appunto la massimizzazione più industrializzata come voluto da urano e anche da un toro avido tra virgolette in cui il verbo avere diventa sinonimo di squilibrio ma il toro in sé come segno vuole la semplicità e quindi è organico è biologico è biodinamico pianta secondo le fasi della luna e questo fa parte dell'innovazione quindi diciamo l'estremo uraniano potrebbe essere una specie di cibo coltivato in laboratorio dall'altra parte appunto la direzione opposta e abbiamo anche con la congiunzione di urano e giove un grande trigono positivo di terra proprio seppure un po' ampio fuori segno se non sbaglio ma tuttavia è operativo ed è si e se non sbaglio è fuori segno anche l'altro trigono con plutone che praticamente vede plutone e sedna in trigono alla luna con plutone a due gradi dell'acquario sedna a 29 del toro la luna a 29 gradi della vergine questo diciamo questo trigono avverrà in concomitanza con la congiunzione giove urano e quindi sarà già un'energia tappeto per quella che poi la lunazione piena in scorpione e sedna è la diciamo il corrispondente femminile di plutone come tipo di energia ora il mito di sedna se ne è parlato più volte e non voglio dilungarmi troppo sul mito di sedna in quanto già il video è piuttosto lungo in sé ma in ogni caso l'energia trasformativa e di rilascio il saper lasciare andare quello che non funziona per poter compiere la trasformazione la metamorfosi viene a essere esaltato con l'energia della sia della superluna appunto scorsa delle crisi solare totale ma sia poi ripreso con un rilascio definitivo di negatività alle spalle con la luna piena in scorpione nel 23-24 aquile aquile aprile volevo dire tre giorni dopo questo la luna torna brevemente in trigono con plutone fuori segno e solleva diciamo tre giorni dopo la congiunzione di giove urano in toro e solleva l'intensità emotiva delle persone un'intensità che riguarda anche i problemi legati alla vergine quindi all'asse della salute della praticità delle attività quotidiane dei lavori quotidiani giornalieri riguarda la libertà dell'acquario la verità in acquario dove è il potere con plutone chi lo esercita e la nuova tecnologia naturalmente con urano le intelligenze artificiali dette quindi renderemo il nostro corpo chiaramente in questa fase corpo fisico veicolo più efficiente e le energie ci sostengono con un lavoro come dire dimezzando i tempi di quello che richiederebbe normalmente questo tipo di lavoro di efficienza del veicolo c'è una sorta di revisione anche complice il sistema e andremo anche ad osservare a scegliere quelli che sono gli aspetti per noi accettabili e non accettabili rispetto alle intelligenze artificiali anche ci viene suggerito comunque di pensare alle implicazioni a lungo termine in questa fase quando andiamo a fare delle scelte plutone anche sarà in quadratura e anche via un coinconce si ricongiunge alla metamorfosi di Sedna siamo a cavallo tra due ere la ruota sta per girare la morte del vecchio mondo e plutone che si aggirava intorno agli ultimi gradi del capricorno e che vi rifarà un breve salto intorno tra settembre e novembre per poi stabilirsi in acquario per una ventina di anni e allo stesso tempo quindi la rilascio del vecchio e nascita del nuovo e siamo appunto in questa fase di passaggio a cavallo tra queste ere e un rilascio di un ciclo precedente una situazione finita nuovi inizi rafforzati una coppia in campo che entra perfettamente complementare perfect pair perfect match l'uno complementare dell'altro e quindi l'idea di una polarizzazione integrata e sinergica e quindi nuove opportunità per la felicità ora seguiranno a quello che è il passato che ha dietro le nostre spalle e rispetto a questo passato naturalmente siamo invitati a fare la pulizia di quelli che possono essere bani dimenticati come dire inosservati sotto i nostri occhi ma talmente abituati scontati che non valutiamo che non vediamo pulire i residuali sensi di colpa rispetto al passato anche per alcuni e nell'ampiezza di questo concetto come possa risuonare rispetto appunto a un percorso di apprendimento naturalmente portata all'attenzione anche il mito di Aumea l'idea della pace la trasformazione il tredicesimo arcano senza nome con l'angelo all'arcangelo Azrael in questo caso rilascia il passato rilascia il passato sui nuovi inizi appunto rilascia il passato c'è un rafforzamento cioè le carte ripetono se stesse in qualche forma quindi un'elevazione ancora della potenza perché si eleva a potenza elevare al quadrato noi eleviamo all'onnipotenza questo rilascio del passato e c'è come dire un futuro più ricco che arriva quindi ci viene chiesto anche di affidarci di lasciare andare lasciare che Dio compia questo processo di metamorfosi che affidiamoci alla saggezza non interferiamo troppo semplicemente facciamo quello che ci viene richiesto interiormente mettiamoci in uno stato di compassione e viene portata all'attenzione sicuramente Aumea l'aspetto della dea hawaiana nel suo aspetto sia di idea del fuoco che genera le otto isole delle Hawaii da questo suo lato vulcanico molto uraniano ma dall'altro aspetto quello di una fertilità senza limiti possibilità di dare vita a qualsiasi cosa da o qualsiasi parte del suo corpo e l'aspetto anche del mago che in Aumea risiede questa dea hawaiana della fertilità che ci riallaccia sicuramente anche a venere Hathor come tipo di energia il suo bastone magico il ma che lei che lei è imperatrice mago e sacerdotessa e ierofante insieme e con questo bastone appunto fa nascere terra laddove terra non c'era è un simbolo potente per la nuova terra per la rigenerazione è magica quasi la rigenerazione con questo bastone rigenera la terra anche se è stata devastata rigenera la terra e fa uscire terra fa emergere terra laddove fosse sommersa fa nascere terra laddove non c'era affatto e come dire quindi anche porta l'idea con il mito che ci ricorda che il suo compagno rubò delle banane nel villaggio cosa che era punita con la pena capitale dai capi tribù perché era il cibo fondamentale diciamo della comunità e quel cibo come dire non poteva essere rubato perché comunque era destinato a nutrire prima i capi i potenti i governanti della tribù e della comunità ed ecco che Aumea chiama raccolta la sua comunità la sua tribù animica i suoi seguaci e rovescia il sistema rovescia questa legge quindi ancora idea di salute spirituale della comunità una comunità collaborativa l'equa distribuzione delle risorse e la rivoluzione per questi scopi e quindi si tratta di una collaborazione comunitaria le persone si uniscono e in particolare il cavallo di bastoni è tempo di unirsi con grande passione per una causa istintivamente sapere sappiamo che cosa dobbiamo fare quindi ascoltiamo la nostra intuizione e la luce della luna piena e il scorpione farà luce anche appunto su questioni di potere personali individuali e collettive segreti che ci controllano e segreti controlli e controlli segreti e naturalmente lo scorpione sull'asso dell'asse toro scorpione lo scorpione riguarda più questi grandi gruppi comunque che vengono e i grandi segreti anche dei governi o delle grandi istituzioni delle grandi associazioni e quindi il vecchio mondo sta morendo con l'assa mano a mano si sgretola la nuova terra già nasce già in frequenza presente già creata da Omea già fatta emergere Giove Urano in congiunzione diciamo nel 2010 nel 2011 nei pesci portano come dire da un punto di vista mnemonico delle energie simili ma in toro chiaramente l'aspetto si chiama ringraziamo il signore il rilascio di qualcosa che ci tiene sotto scacco è la svolta qualcosa che aveva potere controllo su di noi finalmente arrivano le soluzioni l'arcano della temperanza sul quale vi suggerisco l'interattivo appena fatto il successo che viene dal compromesso oggettivo l'autocontrollo e la pazienza l'energia che perdona e che guarisce ecco che il rilascio di qualcosa che ci teneva prigionieri imprigionati schiavi può avere sorprendenti espressioni anche improvvise quindi tanto sorprendenti quanto improvvise che hanno il potenziale di espandersi e di riflettersi e di risuonare in ogni area della nostra vita ed è una liberazione che va a influenzare la vita tutto tondo che è legata alle tempistiche divine che è legata ancora all'idea di alchemizzare gli elementi ha un'idea di pazienza di come dire piani maestri che ci viene chiesto nei quali ci viene chiesto di dai quali ci viene chiesto di farci abbracciare ed è un cambiamento che trasforma l'esistenza in ogni suo aspetto e piano naturalmente la temperanza oltre che soluzioni come viene portato dall'arcangelo Zacchiel porta in sé anche il seme della manifestazione della co-creazione quindi soluzioni come anche co-creazioni e come appunto intervento divino rispetto a queste a queste trasformazioni quindi seguiamo le indicazioni e arriveremo a queste soluzioni e naturalmente questo cambiamento è legato all'energia di urano e soprattutto anche del grande benefico e benefattore giove la primavera araba del 2010-2011 i leader fossilizzati venivano cacciati dal potere perché giove stava espandendo l'impulso rivoluzionario di urano ed è anche diciamo quel periodo quando la nube di cenere del vulcano islandese si espande si espande l'attività sismica provoca l'esplosione appunto del vulcano che sconvolge diciamo i traffici celesti aviari aviari non si dice aviatori per alcune settimane mesi e la luna piena di scorpione arriva tre giorni dopo praticamente la conduzione della congiunzione di queste energie che si vanno fondendo con quelle della luna e riandiamo a ricordare che la congiunzione giove urano imposta un periodo di 13-14 anni che l'eclissi va a spalmarsi su un arco di sei mesi ma chiaramente quello che accade in sei mesi può avere riflessi a lungo termine chiaramente come ci viene chiesto comunque di ragionare a lungo termine la luna piena di scorpione in cui sole e luna sono l'uno opposto all'altro a 4 gradi 18 minuti dello scorpione viene a far splendere una luce in un'area della nostra carta natale che è quella dei 4 gradi e 18 minuti dello scorpione quindi magari potreste vedere nella vostra carta natale in quali case o case o case vengono coinvolte nel tema natale ma una luce si accende una torcia come vedevamo prima con la runa kenaz dove prima non vedevamo finalmente si accende una luce dove prima era buio e ci viene rivelato un qualcosa che per noi è rivoluzionario in qualsiasi forma questo possa manifestarsi poi per ciascuno la luna e il sole come dire plutone a 2 gradi dell'acquario in quadratura con la luna e il sole in un quadrato a t ed è un quadrato nei segni fissi quindi segni che hanno diciamo difficoltà al cambiamento vengono detti fissi e sono appunto toro scorpione leone acquario tendono a essere energie non mutevoli quindi poco flessibili andiamo diciamo a far emergere quelli che possono essere le manie del controllo i problemi comunque relativi al controllo del potere è un momento affascinante nella comprensione di dove risiede il potere e quali sono i nostri rapporti con l'idea del potere che cos'è per noi il potere voglio posso sarà molto evidenziato fino ad aprile che cosa sono i limiti che diamo diciamo all'utilizzo del volere del potere il sole diciamo in generale rappresenta la semplicità la chiarezza quello che è sotto il sole che è evidente in questo caso è in toro quindi il toro anche è legato alla semplicità alla semplificazione quindi ancora una volta il sole esalta un semplificare quasi al quadrato elevato a potenza mentre la luna è un segno di complessità e quindi ci porta ad osservare nella nostra vita alcune complessità emotive che possono essere legate a elementi di controllo manipolazione anche nelle relazioni e questo può essere evidenziato in questo momento diventiamo molto più consapevoli di questi meccanismi dei poteri manipolatori anche a livello relazionale da che cosa ci facciamo manipolare o che cosa mettiamo in atto noi magari inconsciamente manipolando altri nessuno come dire tutti siamo soggetti a qualcosa che non vediamo di cui non ci rendiamo conto e quindi è bene che amorevolmente gli uni con gli altri senza giudizio ma con la volontà costruttiva di crescita ci facciamo notare delle cose nel momento in cui c'è la correttezza nel farle notare no? non è un giudizio ma è guarda se è poi un po' un gioco di squadra quello che viene presentato in questa fase anche nelle collaborazioni comunitarie tra noi e gli altri e quindi sia che queste manipolazioni elementi manipolatori di controllo siano sociali o individuali è importante prenderne coscienza prima appunto di poter essere in grado di cambiarli quindi ci viene anche essere ricordato questo luogo di esercizio del potere ci viene essere ricordato di metterci radicarci a piedi nudi per terra fare respiri profondi ascoltare la natura per decomprimere l'energia che è estremamente complessa e compressa e compassa e per effettuare una compassione e una decompressione e una decomplessizzazione rilassiamoci toro e scorpione quindi occorre decomprimere questa questa pressione dei pianeti esterni soprattutto toro e scorpione è anche naturalmente l'asse finanziario 3 di denari portato all'attenzione fai quello che ami un tempo di grande crescita personale e lavorativa negli ambiti dei tuoi della tua creatività e lavorare con gli altri in una maniera cooperativa è in questa fase appunto ripetuta e fondamentale abbiamo qui l'idea dell'aviazione degli aerei e quindi ancora urano l'inventività anche la genialità delle nostre invenzioni verranno in questo panorama sicuramente alla luce segreti finanziari economici che riguardano le grandi grandi gruppi o nazioni soldi nascosti soldi segreti clandestini criminali rubati potremmo vedere sviluppi significativi anche nelle valute digitali con tutta questa energia dell'acquario la direzione di questo viaggio è decentralizzante va verso delle autonomie locali i grandi tentativi di centralizzazione potrebbero naturalmente il colpo di coda potrebbe essere particolarmente la difesa dei centralizzatori potrebbe essere particolarmente potente o comunque consistente ma naturalmente tra Saturno e Urano e Urano essendo ancora più esterno quello che supera Saturno appunto in senso letterale e quindi probabilmente anche le valute saranno decentralizzate in questo senso naturalmente i tentativi di poteri accentratori che sono accentratori potrebbero avvenire anche tramite la tecnologia quindi teniamo presente anche questo questa luna piena è un grande punto di scelta col quadrato a t di plutone tra sole e luna e ci chiede di diventare punto di scelta naturalmente un punto di svolta il 13 si ripete su sull'idea della della pace fare scelte che ci facciano sentire in pace la direzione da prendere siamo a un bibio usiamo la nostra comprensione siamo pronti ad affrontare un viaggio facciamoci guidare dalla nostra intelligenza non facciamoci buggerare da vie che per noi sono fin troppo familiari questo è un momento di scegliere una frequenza in maniera chiara scegliere la propria direzione quindi polarizzare prima di trascendere è necessario come è necessario consapevolizzare prima di poter cambiare e come dire ecco diventiamo più consapevoli anziché perderci in quale direzione intraprendere distacchiamoci rilassiamoci e la risposta ci arriverà questo è anche un po' quello che significa elevare la prospettiva quindi guardare le strade non tanto da dentro il bosco quanto dal nido di un'aquila sovrastante e naturalmente sono decisioni strategiche anche a livello economico che vanno fatte a lungo termine da questo nido dell'aquila perché i problemi di tra virgolette il concetto di sicurezza insicurezza protezione anche può essere legato anche a questo fatto economico naturalmente con il segno del toro quindi prendiamo decisioni strategiche a livello economico a lungo termine e facciamo quello che possiamo riguardo anche al nostro rapporto con un'idea di sicurezza e quello che possiamo è anche sicuramente unirci in un gruppo di persone che abbiano con un gruppo di persone che abbiano una causalità comune un proposito comune come ci è stato più soggerito per un senso di supporto anche reciproco ci si aiuta reciprocamente si condivide ma si prendono con attenzione le decisioni rispetto a con chi ci leghiamo ci siamo guidati perché c'è tanta energia di intuizione nel campo magnetico e anche non farsi travolgere dalle emozioni con quelle che sono energie potenti eccitanti e accelerate che entrano in campo estremamente dinamiche in un senso o nell'altro e come dire prendiamo le decisioni lentamente con rilassatezza non sotto pressione ma quando siamo decompressi decidiamo e prendiamo decisioni a lungo termine strategiche ponderiamo le conseguenze le mosse le contromosse siamo saggi nelle scelte perché abbiamo qui un ottimo aspetto tra la luna e Aumea che evidenzia l'aspetto della dea del fuoco che crea terra dove non c'era che evidenzia la dea maga con il suo bastone che crea che dà vita da ogni parte del suo corpo per la rigenerazione di noi stessi e del pianeta l'evoluzione che non è solo tecnologica appunto in senso letterale ma che è anche un andare un previsionale è una tecnologia previsionale quella che andiamo a mettere in atto ed è ci chiede di guardare a lungo termine di andare oltre non fermarci a quello che abbiamo davanti agli occhi ma con la nostra mente essere già nella proiezione di un futuro il 132 viene portato all'attenzione non so per quale motivo 132 e anche l'11 con il 13 ma in ogni caso ecco questa evoluzione è anche in senso di tecnologia divina che si riaccende in noi e questo sarà sorprendente anche nei termini della longevità della salute dell'antiinvecchiamento quindi non solo le tecnologie artificiali riguardo al miglioramento della quantità e della durata della vita ma anche le tecnologie naturali che conducono a questo miglioramento e che sono a noi intrinseche Marte è congiunto a Nettuno anche a un livello che può essere come dire di disinformazione di confusione di nebbia di informazione non chiara perché sono nei pesci e quindi le cose sono nebulose sono fumose poco chiare specchi fumanti potrebbe esserci appunto confusione però dall'altra parte Marte chiama all'azione un'azione spirituale questo bivio guarda avanti vai proiettati si pionieristico guarda il futuro e co-crea in questo modo co-crea oltre questo presente immagina quello che non esiste ancora come dire si temerario in questo senso e questo porterà uno scambio di doni senza come dire senza precedenti stavo osservando giustamente ancora i numeri e arrivare a un'unità integrale ridotta di tre e ritrovare un nuovo equilibrio che è co-creativo in senso stretto e che è una comunicazione anche che ha a che fare anche con la comunicazione in questo senso quindi è un'azione impostata in questo modo quella che Marte viene a sostenere in maniera positiva in questo bivio della nostra vita in cui occorre scegliere una direzione non ci fermiamo a quello che è la gratificazione immediata quello che posso fare da qui a oggi o da qui a domani ma guardiamo nel lungo raggio e co-creiamo una situazione per la quale ci sia un equo scambio di doni e quindi che sia equa per noi anche in cui ci sia un equo dare e ricevere questo è anche comunque metaforico di come dovrebbe essere la correttezza delle relazioni soprattutto anche con questo 6 di Raffaele che porta a noi relazioni autentiche animiche di vera di vera unione questo diventa come dire il motto di tutte le associazioni di tutte le collaborazioni con questo senso anche di integrità di correttezza di tenere gli uni agli altri tenerci prendersi cura gli uni degli altri e quindi Plutone che in questa seconda metà di aprile si muove molto lentamente come dire lavora su questi due gradi dell'acquario in maniera consistente va a incrementare questa energia di essere lungimiranti ma più che lungimiranza in questo senso è proprio visionari per cocreare situazioni più eque per noi e per il pianeta e quindi il vero potenziamento al di là del fatto che toro scorpione leone acquario come segni fissi potrebbero subire o sentire più forte i problemi relativi a quanto detto e anche alla manipolazione e al controllo ma il potenziamento è incentrato sull'entrare nel nostro potere e potremmo come dire anche sentirci maggiormente sotto pressione all'avvianza del processo e quindi appunto ci viene chiesto di decomprimere e poi quando il 2 di maggio ora siamo tra due mondi appunto tra un mondo che muore e un mondo che nasce con il 3 che si era citato poco fa ed ecco tra due mondi verso un cuore leale verso ancora una volta un'integrazione polare corretta e un 35 che diventa 8 che presume una elevazione dopo una rivelazione in qualche forma e quindi ecco eventi dinamici perché si muovono accelerando come ci confermano le carte e che escono come dire sincronicamente su queste parole e su questi concetti più che sulle parole letteralmente detto e questa lealtà che è anche una lealtà alla propria parola e al proprio camminare la parola la direzione che si è scelta conduce a noi grande abbondanza e questa energia diciamo poi cambierà significativamente ecco il 2 maggio plutone si sposta e quindi diventa retrogrado stazionario andrà a evidenziare ancora di più quindi la sua energia viene magnificata dallo stazionario sia dal cambio di direzione che da questo suo rimanere permanere nella manovra del cambio di direzione perché è comunque una manovra lenta e quindi ecco controllo luoghi del potere in cui il potere risiede issues come si dice problematiche anche riguardo al potere potrebbero essere suggerite co-crea e costruisci con un cuore leale una giusta integrazione polare giusto lavoro tra cuore cervello psico emotivo sulla creazione ma anche emisfero destro e emisfero sinistro del nostro cervello ci permette di costruire di guardare avanti e di vedere appunto di essere visionari rispetto alla struttura nuova che andiamo a costruire e anche sentiamo poi verso fine mese il 29 30 aprile con Marte a 29 gradi dei pesci che è il grado detto anaretico cioè il grado critico potremmo sentire lì un forte cambio di energia l'energia lì può essere espressa molto emotivamente ci viene chiesto anche di tenere presente che i pesci sono legati appunto alle alluvioni alle inondazioni la tossicità dell'acqua sono legati anche però ai carburanti questo genere di cose anche l'olio in questo senso tutti i sensi anche l'unto del signore e l'ictis e dunque ecco il primo maggio esplode una nuova energia l'energia si sposta potentemente perché entra poi Marte in ariete nel suo segno e sebbene transiti piuttosto velocemente in ariete avrà come dire accelererà le dinamiche co-creative quindi tempi così in cui siamo soggetti a una pressione così col frustino in qualche modo è facile farsi trasportare ma eccoci si chiede di essere di bilanciare la spinta la pressione all'accelerazione con un rallentamento interiore quindi bilanciare perché gli eventi saranno dinamici si accelereranno le crome saranno molto colorate quindi il cromatismo ci saranno molti sfumature nel campo diverse e anche armonie frequenze diverse rapidamente cangianti la luce cambia rapidamente le prospettive le proiezioni ci viene chiesto di creare in noi stessi il nostro luogo di potere perché siamo noi stessi il nostro luogo di potere crea te stesso crea in te stesso la struttura crea in te stesso il tuo luogo di potere sii consapevole delle forze degli eventi esterni osservali dalla tua prospettiva possibilmente senza andarci dentro con tutte le scarpe osserva ma come dire ecco crea attraverso la tua visione una nuova struttura a partire dal tuo panorama interiore e quindi non facciamoci traviare travolgere da un mondo mediatico che porta noi informazioni di guerra di orrore di malattia di morte perché sì è vero che questo c'è ma se noi la nostra energia fluisce laddove poniamo la nostra attenzione quindi è quasi per principio non è per disinformazione ma a quel punto paradossalmente l'informazione che riceviamo è disinformante rispetto a quello che vogliamo costruire e quindi è contraddittoria è paradossale quindi come diceva quell'astrologo di cui adesso mi sfugge il nome che scriveva se non sbaglio sul ma sull'internazionale Rob Bresni lui aveva fatto un interessante lavoro sulla pronoia versus la paranoia cioè una pubblicazione una sorta di fanzine in cui c'erano solo notizie buone e questo ha molto senso rispetto a quanto stiamo dicendo quindi occorre mettersi in luce come suggeriva la carta precedente salire sul palco tra virgolette e promuovere la propria il proprio la propria frequenza il proprio credo la propria volontà di cambiamento e quindi sintonizziamo il nostro focus il nostro fuoco acus focus il gruppo si chiamava focus gruppo anni 70 progressivo un pezzo bellissimo sintonizziamo il nostro fuoco di potere in noi stessi perché da qui tutto inizia e possiamo farlo proprio iniziando a partire dal primo strumento di potere ovvero il nostro respiro quindi e questa cosa di riagganciarci al nostro respiro come fa il bambino neonato in cui è proprio il respiro che respira lui è proprio questo bambino nella culla è un respiro più che un essere e lasciamo che il respiro appunto ci respiri lo possiamo fare ovunque non costa nulla in qualsiasi momento e diventa sostanziale sostanziale per questo cambiamento dell'energia collettiva quindi fare dell'amore il nostro modello fare dell'amore il nostro pattern il nostro percorso e lo facciamo appunto prima di tutto mettendolo in atto in maniera onestra verso noi stessi perché non è amore per se stessi dirsi quanto sono bravo piuttosto è un va distinto l'orgoglio dalla dignità anche viene suggerito e quindi essere oltre l'essere umano galattico cittadini della galassia in via latte a numero interno terra ma essere cosmopolita in senso letterale cioè cittadino di questo ordine cosmico perché cosmopolita viene tradotto tradetto e traviato come cittadino del mondo ma in realtà cosmein è l'ordine cosmos comunque è quello che noi intendiamo come cosmo e quindi quello che noi chiamiamo comunemente cosmo e quindi il cittadino è un cittadino del cosmo quindi sappiamo anche che le estremizzazioni per un verso per un altro ci saranno sostanzialmente riceveremo supporto in questa fase per poter evolvere per poter andare avanti osserviamo anche le cose per poter dare a noi stessi il giusto supporto nel momento in cui andiamo a scegliere poi ecco siamo qui qui c'è questo lama con la sella che aspetta di essere montato quasi e qui c'è l'orsetto che sale sulla groppa della mamma per essere trasportato e quindi siamo anche rassicurati che verremo trasportati automaticamente nella giusta direzione quando ci mettiamo come dire nell'ottica anche di farci aiutare come diceva la carta poco fa lascia rilascia la tua necessità di strappare interventista e fai come dire fai fluire le cose secondo la saggezza superiore perché nel momento in cui hai impostato giustamente le i tuoi le tue coordinate poi il resto fa parte di un processo automatico autotelico e comunque siamo autopoietici siamo autopoetici e la nostra realtà è autopoietica così questa parola vi lascio per andarla a cercare ma ecco in noi tutto quello diciamo tutto quello che ci aspettiamo da fuori è solo sabbia fuori solo sabbia tutto quello che è fuori di noi è nella corrente del fiume non è adatto a gettare fondamenta in noi il potere più alto in noi la terra ferma la pietra angolare in cui investire energia coltivare il rigare il rigare non per noi quello che è fuori non siamo giochiamo piuttosto la partita a scacchi non è per noi lasciare le cose al caso credere nel caso nelle coincidenze in questo senso investiamo con coscienza la nostra energia e investiamola appunto per coltivare il rigare raccogliere dei frutti che non sono soggetti alla scadenza temporale cronologica e saturnina che non deperiscono col tempo ma che restano da un punto di vista energetico e quindi investiamo sul nostro respiro e quindi su uno stato di centratura e di pace in cui risiede il nostro potere lasciamo fare come dire il nostro lavoro è un lavoro interiore e il resto ci pensa la meravigliosa creazione così per come è impostata secondo le sue leggi e quindi a noi ha chiesto di giocare in casa in questo senso i venti stanno elevandosi c'è un magico si stanno rafforzando rafforzando rafforzarsi dei venti di nautici portati all'attenzione dall'idea celeste sulle onde un messaggio anche un vaso che viene tenuto in mano dal divino tra le onde c'è una chiamata un magico rilascio una chiamata e un'intenzione portati in evidenza voglio portare altre carte da questo mazzo e quelle che si vogliono naturalmente far vedere principalmente prima di salutarvi i venti del cambiamento stanno aumentando la salamandra simbolo di protezione ci conduce in questa carta all'idea non solo della protezione automaticamente collegata al simbolo ma anche alla chiusura dei cicli all'ouroboros la fine che si innesta in un nuovo inizio la conclusione un rilascio magico che innesca un nuovo inizio un lavoro creativo un'infinita saggezza e l'alchimia portata all'attenzione dalla salamandra con il percorso il cammino di ecate il cicli della vita la magia della notte alchimia che avviene nelle profondità gli incroci e lasciare andare la scelta delle direzioni dall'altra parte abbiamo la rigenerazione la medicina delle piante la nostra unione con la terra l'essere sciamani guaritori ci prendiamo cura facciamo pozioni d'amore in questo senso io non sono tra virgolette in quella famiglia di esoteristi in cui gli incantesimi non sugli altri su se stessi ecco in questo senso ma una fioritura ecco lasciare andare questo viene a confermare l'idea del rilascio è una fioritura di una di un lavoro creativo che arriva a noi come una medicina e che ci porta delle benedizioni di sicurezza e di stabilità espansione sicurezza e stabilità le benedizioni del Banyan albero tra l'altro legato anche a una bellissima forma di teatro indiana e ecco gli alleati nascosti gli spiriti animali le guide che ci supportano l'aquila il coniglio il lupo in questa carta specifica la natura le piante il sole la luce la terra gli alleati l'assistenza della natura il divino supporto e il comfort e quindi essere a nostro agio abbracciati nella infinita abbondanza di risorse di cui la natura è metafora e quindi andiamo con queste prospettive e grandi miglioramenti successive a necessari rilasci e scelte di direzioni piuttosto chiare a un'attivazione del chakra del cuore che ci permette di agganciare il divino amore di rilasciare gli eccessi di scudi di difesa che si erano come dire costituiti da un nostro sistema immunitario automatico di risposta a traumi abusi violazioni manipolazioni eccetera passate subite o fatte o volute e il nostro cuore è finalmente guarito quindi processo sicuramente importante con i teschi di cristallo la chiarezza la divina guarigione 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 le carte che ripetono se stesse la vibrazione di energia altamente vibrazionale ad alta frequenza è la stella sirio che ci riallaccia su questi animali e su questo lupo che ulula questa stella che ci dice si procedi si visto forza vai avanti fatti strada con la tua spada di verità apriti il cammino nella boscaglia come si dice mi faccio strada nella boscaglia come una spada che taglia e con questa chiarezza di teschio di cristallo energia altamente vibrazionale che arriva direttamente dalle frequenze angeliche gli angeli sono qui siamo salvi una connessione potente un'attivazione del nostro terzo occhio con un'energia generale di un'attivazione della nuova terra del cancello di Gaia con le esperienze che insegnano la trasmissione della saggezza e l'intelligenza della terra che ora siamo in grado con la quale siamo in grado ora di collaborare perché? perché un rilascio carmico è stato compiuto bruciato un qualcosa e adesso in queste stanze dell'apprendimento gli spiriti guida ancora sugli spiriti guida ci confermano le grandi lezioni che sono state integrate acquisite passaggio test superato per alcuni trasformazione radicale conseguente automatica che si innesca direi di non aggiungere altro per questa luna piena in scorpione vi ringrazio per la pazienza vi saluto e vi auguro una buona continuazione ciao